Ciao a tutti e a tutte, benvenuti a Be Alive, un podcast che apre il sipario su un palcoscenico in cui condividiamo pillole di esperienza di musicisti e non solo. Oggi sono davvero felice di poter iniziare una nuova esperienza che desideravo vivere da tanto tempo, quella di aprire uno spazio vivo, creativo e di condivisione. Personalmente negli ultimi anni è stato sempre il palcoscenico, uno spazio in cui sentirmi in questo modo. Ma ho immaginato che questa volta lo stesso spazio poteva essere contenitore di esperienze e non solo di musica. Ma poi esperienze di chi? Le mie, ho pensato. Non credo, piuttosto esperienze comuni di persone che sì sono su un palcoscenico come me a suonare, ma anche di persone che ho conosciuto dietro o giù dal palco, che hanno veramente tanto da trasmettere. Ecco allora che le luci del palcoscenico possono accendersi su argomenti musicali e non solo, su esperienze fatte con la musica e grazie alla musica. Esperienze anche intime, che molto spesso non si rivelano, ma che credo possano essere utili a tanti musicisti o a tante persone che ruotano attorno al mondo musicale o che ne fruiscono, anche solo della musica. Tutto ciò non è nato così una mattina d'estate appena sveglia, ma da un desiderio profondo di dare valore a tutte quelle esperienze, quelle lotte, quelle sofferenze, quelle gioie che a volte non esprimiamo, che non raccontiamo, ma che invece magari possono essere fonti di incoraggiamento. Per chi come noi magari sta vivendo nella stessa situazione che magari noi abbiamo superato, oppure esperienze che possono far riflettere su un determinato argomento, portando l'altro a riflettere in un'ottica diversa. Insomma, vorrei dare un microfono aperto su un palcoscenico, che è quello della nostra vita. E per cominciare vi racconto la mia di esperienza, un po' piccola, ma che ha dato il là a questo podcast. Qualche giorno fa, sul cellulare, trovo una notifica di messaggi nella casella di posta di Instagram. Era una ragazza che mi chiedeva l'autorizzazione per condividere una mia foto nelle sue stories. Prima di rispondere, mi sono però accertata che il profilo fosse reale e scopro con piacere che questa ragazza era una cantante. Accetto allora la condivisione. E mi scrive che per lei era un piacere poter dialogare con me, perché ascoltava la musica, la mia, quella dei Lossig Duo, e seguiva spesso anche i video che postavo nella mia pagina Facebook e nella mia pagina Instagram. Insomma, dopo un breve scambio di messaggi, le dico che al posto di condividere l'amicizia sui social, potevamo anche solo incontrarci dal vivo per prendere un caffè. Lei mi risponde allora e mi dice che purtroppo non vive molto vicino a me, perché vive a Bari e che per il momento è molto difficile, vista la grande distanza, ma che le avrebbe fatto davvero molto piacere. Ma soprattutto mi ripete che non se l'aspettava che io le rispondesse ad un messaggio, anzi, pensava che io fossi una persona più chiusa. E quindi le ha sorpreso il fatto che io fossi una persona molto più aperta, ma soprattutto aperta al dialogo. Ora, in quel momento, ho sentito profondamente quanto i social possano davvero portare ognuno di noi a farci personaggi o a vedere gli altri come personaggi, magari a volte irraggiungibili, di fama, eccetera, di quanto davvero possono distoglierci dalla realtà in cui viviamo, in cui ci si separa, in cui non si parla quasi più a quattro occhi. Ed è quanto ognuno di noi possa esserne condizionato. Ecco allora che ho sentito la necessità di poter far arrivare la mia esperienza, anche lontano, attraverso un podcast, a persone come lei o a tanti di voi che mi iscrivono sui vari social, e di condividere non solo la mia, ma anche altre esperienze di chi come me ama la musica, di chi la vive, sopra, dietro o giù dal palco. Se l'episodio ti è piaciuto, ti chiedo allora di condividerlo sui social usando l'hashtag BeAlive, così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast. Grazie e buona settimana a tutti.